Bene, grazie a tutti di essere qui stasera, come ho già detto, il design fa rumore, seconda edizione. Una serata inventata lo scorso anno da Pagena in Redo, nella persona di Giuseppe Rendramini, che ha trovato in me così una spalla che ha deciso di collaborare con lui in questa avventura. Io non vi tolgo altro tempo, passo la parola a Giorgio De Ponti, del Politecnico di Milano, che farà da moderatore e ci farà conoscere i designer che questa sera partecipano a questa serata. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Giorgio De Ponti, sono un professore della Facoltà di Design del Politecnico di Milano e ricercatore in Ingegneria dei Materi, quindi ho un po' di lavoro da fare. Allora, sono il moderatore di questa serata, il moderatore è una parola grossa, diciamo che cercheremo di far capire attraverso sei giovani designer, più un settimo che è giovanissimo, qual è il design, quali sono le strade del design e soprattutto declinare il design in maniera completamente differente. Avremo degli approcci dall'infanzia fino alla lettura del connubio tra design e arte, avremo delle situazioni materiche, avremo delle situazioni di studio e di comprensione del design completamente diverse ma al tempo stesso eterogene tra le varie fasce. Quindi voi avrete già visto modo di vedere l'esposizione, avete visto che ci sono delle situazioni completamente differenti sia nella forma che nella sostanza, ci sono degli arredi completamente differenti soprattutto a livello di pensiero, a livello di design e a livello di estrapolazione del pensiero del designer in una forma concreta. Non perdo altro tempo a tediarvi con lunghi discorsi e inizio alla presentazione dei vari designer. Vi do due brevi note bibliografiche e poi ogni designer si presenterà da solo e soprattutto ci spiegherà qual è il significato del pensiero.